Inizio, come se qualcuno vi volesse bloccare e volete prendere qualcuno, la chiave ovviamente non partire dal movimento dalla spalla ma dal centro e poi dalla parte bassa. Inoltre, la mano continua e portare la mente dal centro e sentire che il movimento parla dal centro e dalla parte bassa, dai piedi. e il tronco, il corpo che mette in movimento la mano, la mano non si muove in questa mancina. Così l'articolazione della spalla è naturale, abbiamo usato pochissimo. E adesso sta avversando, ecco qualcosa di difficile. Per capire se il movimento è giusto o sbagliato, provo a fare questo movimento. Questo è una difficoltà, perché in generale questa mancina è abbastanza molto svantaggiosa. La cosa che si dice è non andare in contrasto con la forza che si incroca. Non devi cambiare tecnica. Non devi cambiare tecnica, se no è un'altra storia. Non cambiare tecnica. 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 Questo è un cambiamento. Se io ero di gruppo, non è che... Se qua, io da qui direttamente le nostre... No. E tu non mi puoi fermare. Perché? 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 Questo gioco solo spalla. E la spalla non è abbastanza potente. E la spalla non è abbastanza potente. Perché? Perché? Beh, non è abbastanza potente. Non è abbastanza potente. Noi, per fatto, non ho visto il gioco. Noi, guardiamo il nuovo studio. E la spalla non è abbastanza potente. E' come è che succede. Allora, c'è un'altra cosa. Questi esercizi non si possono respirare in periodo. Non c'è respirazione in periodo. Non si può respirare in periodo. Perché se tu ci lasciate... Tu solo questo... Faccio un muscolino, contro... Perché quando non mi trovo il corpo, non mi trovo il corpo, allora tu non puoi non pensare. Ma quando tu fai, tu ti mostri un po' di loro sotto. E' un forza. Per quello che vuoi fare è di attivare. E lo dovrei un po' di attivare la scuola. Quindi lo farei? Si, lo farei. Vai in esercizio. E l'esercizio lo impari e lo capisci proprio a te. E l'esercizio lo impari e lo capisci proprio a te. E' un po' di attivare il tuo stagio. E' un po' di attivare il tuo stagio. E' un po' di attivare la scuola. E' un po' di attivare la scuola. E' un po' di attivare la scuola. Quando qualcuno ti mette la forza, si chiama per particolare, uno, poi mette il tuo stagio. E' un po' di attivare la scuola. E' un po' di attivare la scuola. Allora lui disse, che farei il modo che questa forza sia scaricata qua. Un po' se potrebbe una boccia pescata dentro. C'è la più sicura di attivare la scuola. E' un po' di attivare la scuola. un po' di attivare il giusto di acqua. Se non ti mette l'acqua, ci mette anche un po' di attivare la scuola. E' un po' di attivare la scuola. E' un po' di attivare la scuola. Questo è il 99,9% e se non fate un livello specifico non riesco a superare questo testo. Se sei troppo bene, non riesco a farlo, non riesco a farlo, non riesco a farlo. Se sei troppo bene, non riesco a farlo, non riesco a farlo, non riesco a farlo, non riesco a farlo. Questo si capisce? Sì, mi contrappongo direttamente, senti come sopra il raggio diventa solido. Tu lo senti, lo senti come hai visto, mi sembra sparire. Non riesco a farlo, non riesco a farlo, ma senti la forza. Senti, è un po' come se si trova lì. Se sono young, se sono forte. E' come se si è sollevato davanti a una scuola. Non riesco a farlo. Se sono young, ovviamente non riesco a farlo. Non riesco a farlo. E' semplice, ma molto difficile. E' semplice, ma è fondamentale. Però è fondamentale. E' semplice, è molto importante. E' semplice, è molto importante. Nella fase lì non ti devo proporre direttamente, ma è il modo che non lo assorbire per poter eseguire. gli disattamente è il modo che non lo si chiama dal palco e non lo si chiama dal palco. E' semplice. Chiara l'abbazione? Cambiamo l'abbazione. Grazie.